Noi siamo per queste cose, allora non mi puoi guardare così tu col capellino, io ti vedo col capellino, mi guardi così come dire tanto è inutile, tanto vinceranno sempre gli altri, è vero, lo pensi come lui, lo pensi come lui che grida, lo pensi come lui senza gridare, ti leggo, tanto è inutile, non è vero e ci darete una mano anche voi, noi anziani daremo una mano ai giovani, perché siamo quelli che non vanno più su internet di tutti, non dirmi che di notte torcono un porno, sai sempre vederti cose, io tu, io porno, io porno, quindi signori io cosa mi chiedo, mi chiedo solo una cosa, onestamente, se non fossi così convinto non sarei qua, non abbiamo possibilità di essere eletti come lui, come Davide, presidente della regione, vi ripeto non abbiamo soldi, non abbiamo mezzi, ma il nostro fine non è la presidenza della regione, il nostro fine è inserire nella regione uno di quei ragazzi, uno, perché inseriresti un cuneo di 30.000 persone, inseriresti uno con una web che filma tutto, che porta fuori gli appalti degli amici, degli amici, porta fuori i bilanci, li porta in rete, in rete abbiamo i più grandi specialisti che capissano tutto e in rete abbiamo i più grandi specialisti dei progetti sulla mobilità, sul wifi, su qualsiasi cosa, li riempiremo di progetti, quindi ne basta uno che sia un terminale di un network, non c'è mai stata al mondo una cosa così, la stiamo facendo qui, in questi posti qui con voi, l'avete capito? Se mi chiamano dall'estero a guardarci, a Oxford, cos'è questo Movimento 5 Stelle, cos'è? L'interesse, perché la corruzione in tutto il mondo è l'unico modo per sopperire una corruzione dall'alto, con i mezzi di informazione corrosi, è la rete e noi stiamo organizzando una cosa che non ce l'ha fatta ancora nessuno, siamo stati i primi, siamo i primi al mondo a fare una roba così, vi pregherei di credersi, sono rovinati, noi vinceremo!